Vivere di musica. Beh, se sai come farlo, dimmelo che la cosa mi interessa. No, beh, scherzo. Vivere di musica è bello e interessante, ma non è decisamente semplice, soprattutto al mondo d'oggi. Comunque è possibile, ci sono alcune strade e me ne viene in mente tre in questo momento. La prima, ovviamente, se sei un DJ, è fare tante serate. Beh, magari quattro nel periodo invernale, cinque nel periodo estivo e, come dire, ce la puoi fare. Diventa molto impegnativo, non tutte le serate che partano poi arrivano in fondo alla stagione, diventa continuamente necessario trovare l'ingaggio, mantenerli, insomma, è impegnativo. Se però invece vuoi introdurre anche la produzione musicale nel tuo lavoro, ci sono altre strade. Abbiamo detto che un disco solo è evidente che non ti porterà molto, almeno tu sia un super fenomeno. Una strada è quella di produrre tanta musica, se vogliamo, anche diversa. Oltre a quella che si spera che possa vendere nel tuo genere preferito, ci sono anche tante musica che invece non passa dalla radio, dai canali a cui siamo abituati a pensare solitamente. È quella che dice in gergo la Library Music, la musica per contenuti editoriali più diversi. Può essere colonne sonore, filmati, film, videogiochi, le segreterie telefoniche, che ha messo di stare ancora sottofondi nei centri commerciali, negli aeroporti, qualsiasi tipo di situazione che abbia bisogno della musica e che quindi ha anche un effettivo riscontro economico. E per fare questo c'è bisogno di produrre tanta musica e sempre più diversa e magari appoggiarsi a delle edizioni o comunque collaborare con esse. Oppure un terzo aspetto che può integrare altre attività del DJ con la vera e propria organizzazione e lo sviluppo di eventi. È un modo in cui per esempio molte etichette, soprattutto all'estero, cercano di sviluppare il proprio brand. È ovviamente rischioso, però ci sono anche le margini economiche, soprattutto se c'è una buona pianificazione e se riesce a creare un ottimo gruppo di lavoro e hai successo. Abbiamo messo un po' di carne al fuoco e approfondiremo i vari argomenti successivamente nel corso di questi video. Per concludere, ciò che è il comune denominatore di tutto questo è che per vivere di musica oggi devi lavorare tanto e sodo. E ci sono molti rischi. Non puoi pretendere di dire, la musica rende, allora mi metto così posso anche non lavorare. Non è così, non è così semplice, non è semplice per niente. Per vivere di musica oggi è molto complicato, c'è molta concorrenza, devi pianificare bene e devi sperare che tutto vada a secondo piani o almeno avere modo di riorganizzarti in corsa. Però se questo è il tuo obiettivo, ti auguro di riuscire a raggiungerlo anche grazie ai contenuti di cui parliamo nei video di essere DJ oggi.